Alba si arricchisce di un nuovo e articolato servizio sanitario. A offrirlo è Alba Salute, una nuova, efficiente e raffinata struttura privata che è stata presentata da autorità e cittadini il 12 dicembre insieme al proprio ampio, attrezzato e accogliente centro di via Santa Barbara 1. La grande e coinvolgente festa nell'ampia area adiacente alla nuova struttura sanitaria ha visto la partecipazione della banda musicale di Alba e degli sbandieratori e musici del Borgo Moretta. Il centro medico Alba Salute dispone di ben 11 studi sanitari perfettamente attrezzati dove bravissimi medici, molti dei quali sono noti specialisti albesi offrono prestazioni in tutte le discipline sanitarie. Chi si recherà a visitare il centro entro il 23 dicembre potrà ottenere l'esclusivo Almanacco Albese 2016 e la tessera benessere che dà diritto a trattamenti gratuiti in campo odontoiatrico e di medicina estetica. e a prestazioni e visite a condizioni vantaggiose.